Il controllo è un'azienda che realizza progetti per l'automazione industriale di linee di produzione e di macchine automatiche. In particolare, lavora su impianti di diversa natura che richiedono la programmazione di macchine e progettazione di queste macchine stesse, da un punto di vista elettrico e anche meccanico. Le persone che vengono ricercate, i profili che vengono ricercati, sono dei profili di contenuto tecnico, che partono dal periodo industriale mediamente, persone che vengono fuori dai TS, quindi una figura intermedia, o ingegneri nel settore dell'automazione industriale, dell'informatica, elettrici e software. Stiamo cercando queste persone sul territorio e rileviamo una carenza importante, in particolare nella zona Foggia, Foggia e provincia. Perché? Perché forse nessuno sa che questa è un'attività che può essere sviluppata in diverse realtà, dovunque ci sia una linea automatica, è necessario che ci sia la professionità per poter manutenere, per poter progettare e così via. Foggia ha pochissime realtà, in particolare Alenia, Fiat, eccetera, però la richiesta di personale già sul territorio è importante. Ma Melfi è un grande bacino, per esempio, per queste persone. Noi come azienda di automazione industriale abbiamo sede sociale a Foggia, ma lavoriamo in tutta Italia e in tutto il mondo, anche perché è una professionalità che viene richiesta ultimamente sempre di più, visto che stiamo passando da un supporto manuale a un'automazione di massa. Quindi è necessario che ci sia delle persone che abbiano queste professionalità, che vanno appunto dalla progettazione, dalla costruzione, dalla messa in servizio in tutto il mondo. In questa automazione ci sono sia progettazione di tipo elettrico, sia progettazione di tipo meccanico, sia progettazione di tipo software. E in particolare tutto questo si concretizza con una messa in servizio che viene realizzato presso i clienti finali, che possono essere Italia o Estero. Quindi ovviamente gli skill di queste persone devono essere persone disponibili ad andare a Estero, muoversi, capaci di confrontarsi con realtà diverse e che sappiano evidentemente anche le lingue, in particolare l'inglese.